La festa della Madonna della Montagna dal 1763 si svolge ogni anno a Taurianova dal 29 agosto alla 10 settembre in onore della protettrice della città. Anche quest'anno, fedele ad un'antica tradizione, la città di Taurianova sta celebrando con solenni festeggiamenti che, come di consueto, sono stati preceduti dal falò dell'invito, un vitu. Il comitato di concerto con l'amministrazione comunale ancora una volta ha voluto organizzare una grande festa con la partecipazione di grandi artisti e attrazioni varie per allietare la cittadinanza. Tantissimi eventi che avranno il loro culmine con le serate della festa il 7, 8, 9, 10 settembre che coinvolgono un elevatissimo numero di persone, alcune delle quali giungono a Taurianova appositamente per prenderne parte. Sabato 7 settembre i concerti dei Taranta Ionica Ed Etno Sound, domenica 8 invece come tradizione non mancherà il concerto della banda musicale di palco, eseguito dalla banda del 12esimo battaglione fanfara dei Carabinieri Sicilia, la Palco Sgarano. Molto atteso a chiusura dei festeggiamenti di martedì 10 settembre invece il concerto di Bianca Zey.